Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche boccia a Megalot 3 respingendo il ricorso della ditta HSRL titolare del progetto che aveva chiesto l'annullamento di due provvedimenti contrari del genio civile e della valutazione ambientale negativa espressa dal Comitato Regionale Via. Per il WWF di Chieti Pescara presente nella causa con un ricorso ad opponendum si tratta di una decisione che segna un punto importante a favore dell'ambiente e della legalità pur se sulla questione tutto era pendente un ricorso al TAR. L'impugnativa di Acca, secondo il Tribunale, deve ritenersi tardiva rispetto ai tempi della sua presentazione. Basterebbe per bocciarla, si legge in una nota del WWF, ma i giudici sono andati oltre ritenendo i motivi di ricorso infondati anche nel merito. Il cambiamento di posizione del genio civile e la successiva ordinanza su ripristino fanno infatti riferimento esplicito alla morfologia e all'altimetria dei luoghi, variate con una significativa riduzione della originaria capacità di invaso e di laminazione. Secondo il genio civile, l'area dove dovrebbero sorgere le strutture è inibita a qualsiasi attività di trasformazione edificatoria perché si tratta di area golenale classificata esondabile dal piano stralcio difesa alluvioni. La decisione del Tribunale delle Acque, sottolinea la Presidente del WWF Chieti Pescara, Nicoletta Di Francesco, accoglie in pieno le nostre osservazioni. Il contrasto ai progetti di cementificazione a ridosso del fiume è stato ed è per noi un durissimo impegnativo lavoro, svolto da volontari e col solo fine di scongiurare un intervento urbanistico dannoso per l'ambiente e pericoloso per i cittadini e per chiedere a chiunque il rispetto pieno delle leggi. Ci sono un avviso di sequestro ma in realtà il posto è accessibile, ci sono rifiuti ancora lì in combusti che potrebbero prendere fuoco facilmente e ci sono sicuramente, ci saranno le cenere.